Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archivi Parla, adesso che è finalmente uscito a fare BuzzZ, abbiamo visto quelli che appunto sono i nuovi boss di questa mappa e voglio un pochino spiegarvi per qualcuno che ancora non l'avesse capito, un pochino come funzionano, qual è il modo migliore per ucciderli e generalmente cosa ne penso. Il primo boss sarà quello di più grande discussione, quello che veniva chiamato praticamente il nuovo marco dell'Eteroscuro ed è appunto in inglese il Mimic perché si può appunto mimetizzare. Come ho visto agli ultimissimi video e anche dai primissimi teaser, può diventare letteralmente qualunque oggetto nella mappa, ma è comunque secondo me abbastanza facile capirlo, quantomeno nelle transizioni tra i RAM quando ci sono oggetti casuali in tutta quanta la mappa è molto chiaro qual è un boss e qual è invece un oggetto vero, specialmente per macchine da guerra, torrette robot sparse in giro, che sono completamente improbabili. I boss sono comunque molto agili, molto veloci, ma davvero poco resistenti, infatti sparandoci veramente bene in bocca come attacco critico si uccidono veramente molto molto in fretta, la forza è sicuramente nel numero perché erano più alti, specialmente in tanti player ne abbiamo visti anche 10 o 12, il che è sicuramente un problema insieme agli altri zombie e altri boss corazzati. Proprio a riguardo il boss corazzato che sarebbe il mangler che fa praticamente un ritorno da Gorod Krovi di Black Ops 3 è semplicemente uno zombie corazzato mezzo robotico che ci può colpire anche dalla distanza, il suo colpo ci spara in avanti praticamente di un metro ed è comunque molto resistente con tantissima corazza, è molto molto lento per veramente tanta vita e l'importante è spaccare subito un pezzo di armor e nella parte di colpo che è stata scoperta cercare di smitragliarlo fin da subito per ucciderlo davvero molto molto in fretta, anche di questi ne spawnano veramente tanti, non tanti quanto i Mimic ma comunque in grosso numero danno sicuramente fastidio. L'ultimo boss, quello sicuramente un pochino più imponente è quello che si chiama Orda e arriva dopo il round 30 circa, comunque è possibile che arrivi in quelli che sono i round di assalto, ho fatto un video intero a parte in cui descrivo come funzionano questi round che è una piccola difesa di diverse zone e reattori eterei e appunto può arrivare questo boss gigantesco che non è che abbia così tanta vita però ci può colpire dalla distanza e arriva insieme a tantissimi altri zombie e boss quindi è sicuramente un problema ma uccidendoli in maniera molto molto rapida con misti di crui, anelli di fuoco e wonder weapon finisce immediatamente il round e ci troppa le nostre munizioni e carpintiere quindi è veramente un problema. Molto molto comodo, ha parecchia vita ed è sicuramente molto resistente e molto forte ma comunque sta veramente a distanza i suoi colpi sono molto lenti e se siamo in tanti a sparargli muore comunque relativamente in fretta. Ovviamente non sappiamo ancora se alla fine dell'easter egg dato che ancora non è uscito ma uscirà domani alle 18 ci sia una boss fight vera e propria sempre con quel mostro gigante chiamato Orda o qualcosa di completamente diverso o se appunto ci sia una vera e propria boss fight o si replicarà magari di machine dove non era presente praticamente nulla alla fine dell'easter egg neanche per dire una cutscene. Questi al momento sono appunto i boss che vediamo nella mappa, possiamo chiamarli piuttosto zombie speciali mi ricordo tantissimo come per dire anche la mappa 9 di Black Ops 4 con tanti zombie speciali come per dire dopo il round 25 ci sono anche i cani infernali che esplodono stile Napan praticamente. E vi ricordo che purtroppo tutti questi nemici non contano come nemici elite per quanto riguarda le sfide quindi se state completando ancora mimetiche o altre cose vi convengono sempre i megatondi di machine perché questi purtroppo non contano per assolutamente niente. Sicuramente comunque ho trovato questi nuovi nemici, nuovi boss molto molto interessanti e la mappa devo dire che è relativamente bilanciata perché è di base come al solito abbastanza facile Cold War e questi boss sono veramente tanti quindi danno il loro fastidio, sono comunque resistenti e relativamente forti ma con le armi giuste si possono uccidere molto molto in fretta e basta stare un pochino attenti. Si può essere sopraffatti specialmente in co-op ma è un pochino la base anche della sfida per quanto riguarda zombie. Il Mimic è sicuramente la meccanica nuova più interessante mentre Mangler e Cani Infernali fanno un bel ritorno da Black Ops 3 e in generale i cani sono sempre stati un marchio per quanto riguarda zombie mentre il boss gigantesco Orda potremmo magari vederlo alla fine della boss fight ma ora come ora è un boss di round di assalto comunque molto carino, efficace e molto molto bello da vedere. Questo piccolo video informativo quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, come sempre qui sotto in descrizione c'è la playlist con tutti gli altri tutorial video che ho fatto per quanto riguarda questa mappa e anche quelli di machine, trovate in descrizione anche il link a tutti quanti i miei social e noi ci vediamo come sempre, a un prossimo video, un abbraccio! Alla